Il Kraut Garp è una preparazione alimentare tipica dell'autoconsumo invernale delle famiglie di montagna derivante dalla lavorazione dei krauti tipica dell'area della Carnia. La lavorazione prevede la concia sottosale o nell'aceto delle foglie dei cavoli cappucci ridotte in strisce sottili e disposte in tini di legno, detti Brent, a strati alterni con sparsi di sale. Quando il Brent è pieno viene coperto con le foglie esterne precedentemente asportate e richiuso con un coperchio e dei pesi per mantenere il contenuto sotto pressione. Una volta avviata la fermentazione lattica naturale si procede a eliminare l'acqua espulsa dalle foglie e a sostituire lo strato di foglie superiori fino a che dopo circa 40 giorni il prodotto è pronto per essere consumato.